In questo modulo parliamo delle cerimonie. Come è facilmente intuibile, questo è solo un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sulle nostre piattaforme. Quindi se vedete che vi manca qualche nozione, andate a vedervelo perché sicuramente è molto più ampio e molto più interessante. Torniamo alla spiegazione. Perché dico delle? Perché ci sono varie situazioni. Quindi ci può essere la cerimonia civile, ci può essere la cerimonia religiosa, può essere in esterna, può essere in interna. Quindi andiamo a fare un po' un excursus. Prenderemo come esempio principale, su cui molte cose poi si adattano ovviamente anche agli altri tipi di cerimonie, la cerimonia religiosa, quindi in chiesa. Perché in Italia noi abbiamo sempre fatto matrimoni in chiesa, anche se si tende a percepire che c'è un po' un cambiamento. In realtà su 100 matrimoni, secondo me 70 sono fatti in chiesa, 80. Quindi analizziamo questo come caso principale, e poi andiamo a parlare del resto con tutte le varie differenze che ci sono. Quindi una volta che siamo giunti nel luogo della cerimonia, indifferentemente da quale sia, adesso parliamo della chiesa, bisogna iniziare con le coperture quindi della chiesa stessa, la chiesa vuota, quindi riprendiamo le varie panchette che ci sono, se è possibile le brochure, i giornalini, gli inviti, come si possono chiamare all'interno della chiesa, i rosoni, i crocifissi, e quindi tutto quello che c'è di contesto della chiesa, se abbiamo tempo. Sempre ricordare questa cosa. Dopodiché, visto che siamo entrati in chiesa, annunciamo la nostra presenza al sacerdote, quindi al prete, e capiamo un attimino lui come intenzione di gestire l'aspetto fotografi, videomaker, perché ci sono alcuni preti che sono accondiscendenti, altri che sono, diciamo, un po' rigidi nelle norme da applicare all'interno della loro chiesa, e quindi bisogna capire dove possiamo andare, dove ci possiamo muovere, se possiamo salire sull'altare, mentre non i piedi sull'altare, ma intendo sul palco che c'è davanti alla lavata centrale, quindi insomma capiamo un attimino questa situazione col prete, ci annunciamo a lui, dopodiché dobbiamo intercettare il nostro sposo, che a questo punto sarà già arrivato, sarà all'ombra, non sarà sotto il sole, e dobbiamo iniziare a fare l'ingresso dello sposo con la mamma, perché di solito funziona così, facciamo però sentire la nostra presenza, e facilitiamo l'ingresso degli invitati, perché da soli potrebbero non farlo, perché ovviamente non possiamo fare l'ingresso dello sposo con la mamma, senza nessuno, ok, seduto, quindi dobbiamo fare entrare tutti i parenti presumibilmente dello sposo, o chi è già arrivato, li dividiamo in base a parenti dello sposo, parenti della sposa, quando sono tutti più o meno seduti, chiaramente ci sarà sempre chi non vuole entrare, chi a dispetto non lo farà, va bene, facciamo riprendere chi ha voglia di entrare, cioè facciamo entrare chi ha voglia, e facciamo l'ingresso della mamma con lo sposo, ok, quindi loro entrano, e ci percorrono tutto il nostro, la nostra navata centrale, possiamo farla anche due volte, perché in questo momento c'è un momento di più calma, possiamo farla running, possiamo farla a mano, insomma facciamola come vogliamo, dopodiché dopo che abbiamo fatto l'ingresso con mamma e sposo, tutto si fermerà un po', perché la sposa dovrà arrivare, dovranno ancora arrivare gli invitati, quindi ci sarà un momento di stallo, in questo momento di stallo settiamo la camera, magari mettiamo due profili se lo avete, quindi profilo 1, profilo 2, nel profilo 1 settiamo l'esterno, nel profilo 2 settiamo l'interno della chiesa, a livello di esposizione, e microfoniamo lo sposo, quindi cerchiamo di essere discreti, usiamo sempre un audio di backup, come per esempio può essere il microfono direzione sulla camera, o il microfono panoramico in sala direttamente, meglio se tutte e due, quando mettiamo il microfono, facciamo attenzione a non lasciargli il ricevitore della Rode qua, che lampeggia, che rovina tutto l'outfit, ma nascondiamolo, occultiamolo, anche qui nel corso audio che abbiamo fatto, spiego come nascondere i microfoni, insomma tutto un discorso un po' più approfondito, ma in ogni caso il microfono non deve essere troppo evidente, ok? Durante l'ingresso ovviamente con mamma e sposo, coordiniamoci con il nostro fotografo, per evitare di disturbarci reciprocamente, facciamo anche una prova, rispetto a come sarà poi l'ingresso della sposa, che è ben più complicato, e se il fotografo utilizza il flash, facciamoglielo notare, facciamo presente di limitarne se possibile l'uso, e noi ci dobbiamo regolare di conseguenza, chiaramente se durante l'ingresso dello sposo o della sposa, lui continua a sparare il flash, ragazzi non ci sarà nulla da fare, rassegniamoci. Quindi avremo il problema dell'esposizione, come abbiamo detto, perché la porta della chiesa sarà spalancata, quindi avremo una sovraesposizione fuori e una sottoesposizione dentro, possiamo utilizzare anche un faretto, se necessario, per dare un colpo ai nostri soggetti, di evitare che ci sia troppo contro luce, quando siamo nel largo, il mio consiglio, esponiamo dietro, per avere appunto il contro luce nel largo, invece nello stretto, esponiamo sui nostri soggetti, in maniera tale da avere dietro un po' più sovraesposto, questo è l'unico compromesso che si può fare. Quindi una volta arrivati all'altare, possiamo fare il bacio tra mamma e sposo, insomma un bacio, un abbraccio, un momento loro, e terminiamo l'ingresso e ci spostiamo fuori, perché adesso sta per arrivare la sposa, e ovviamente arriveremo fuori, stanno arrivati altre persone, quindi accomodiamole dentro, spieghiamo che non è elegante aspettare la sposa fuori, e quindi ci dobbiamo preparare, bisogna stare pronti perché sta per arrivare. E ci prepariamo per appunto l'arrivo della macchina, a questo punto se c'è un autista, c'è lo zio, c'è chi guida la macchina, noi dovremmo aver già preso il numero prima, per dirgli di aspettare noi ad arrivare, quindi praticamente noi cosa dobbiamo fare, quando siamo a casa della sposa, capiamo il numero di chi guida la macchina, e diciamo tu arriva, ma aspetti in un angolo, aspetta un attimo, quando noi ti chiamiamo, arriva, se questa cosa non è possibile, bisognerà fare un po' più di reportage, ok? Quindi la nostra macchina si sta avvicinando, e riprendiamo l'arrivo della macchina, facciamo magari uno stretto, mentre lontano, poi man mano che si avvicina, facciamo un largo, sempre due inquadrature separate, non facciamo un'inquadratura unica con lo zoom out, arriva la macchina, si ferma lì, blocchiamo la sposa, che giustamente si vorrà catapoltare fuori, facciamo un cenno all'autista, che deve rimanere seduto, non deve aprire lui la porta alla sposa, ma è il papà che deve scendere, fare tutto il giro, aprire la porta, e far scendere sua figlia, anche qui, cerchiamo di catturare uno stretto, un largo, diciamo di fare tutto con estrema calma, estrema grazia, anche perché la sposa sarà un fagotto all'interno di questa macchina, quindi per districarsi ci vorrà un attimino, cerchiamo sempre di fare tutto nella massima eleganza possibile, quindi cerchiamo di gestire tutto al meglio. quindi una volta scesa la sposa, col papà insomma che la tiene sotto braccio, ci avviciniamo alla chiesa all'ingresso, potrebbero esserci dei paggetti, quindi con le fedi, li facciamo mettere davanti alla sposa, loro faranno una breve camminata, e poi ci supereranno, questo perché? Perché nella testa degli sposi, ci sarà sempre il paggetto davanti alla sposa, per tutto il tempo che tiene gli anelli, però non va sempre così, perché giustamente i bambini non sono gestibili, sono ingestibili, e quindi magari piangono, fanno storie, quindi la cosa da fare, e poi soprattutto noi avremo la sposa coperta dei bambini, quindi la cosa che dovremmo fare è, bambini facciamo un pezzettino prima di entrare in chiesa, poi i bambini ci superano, entrano, vanno dallo sposo, e noi riprendiamo la sposa che arriva ed entra in chiesa. Per l'ingresso della sposa abbiamo due opzioni, quindi possiamo posizionarci con un teleobiettivo dall'estremità, quindi dal fondo della chiesa per riprendere zoomando, ok, l'ingresso, e quindi ottenere diverse inquadrature, facciamo un po' zoom, un po' largo, insomma facciamo l'ingresso in questo modo, tuttavia dobbiamo fare attenzione che il fotografo segua la nostra stessa linea, perché altrimenti lo avremo sempre in mezzo davanti alla sposa, e anche qui la comunicazione è una cosa fondamentale. Oppure possiamo seguire tutto il percorso, quindi in camminata all'indietro, magari con Ronin, preparandoci per riprendere appunto il saluto tra sposo e sposa, che avverrà alla fine dell'ingresso, quindi quando ormai arriva all'altare, la nostra sposa saluterà lo sposo. Questa seconda opzione è praticamente impossibile se siete da soli e riprendere la reazione dello sposo, quindi un consiglio è quello di recuperarla, magari prima che lei inizia a camminare, quindi cosa vuol dire? È molto bello vedere lo sposo che per la prima volta vede la sposa, però se siamo da soli o riprendiamo lei o riprendiamo lui, non possiamo sdoppiarci, quindi magari quando lei è ancora sulla porta che sta per iniziare a entrare, che entrano i paggetti, che si sistema, facciamoci subito un dettaglio dello sposo che la vede, che intanto già sarà emozionato, e poi riprendiamo lei che entra. Questa è la cosa fondamentale. Deve camminare piano piano, lentamente, lentamente, non deve correre. Lei deve camminare comunque molto lentamente con papà, arrivare fino al fondo, piano, tranquillamente, si saluteranno poi sposo e sposa, e papà che saluterà lo sposo. Da qui in poi inizia un momento un po' più tranquillo, quindi un momento più rilassato della cerimonia, quindi tutti si siedono, sposa e sposa sono arrivati, hanno salutato il sacerdote, tutti si accomodano, e a questo punto cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo catturarci tutte quelle immagini di copertura, tutte quelle immagini a supporto che ci servono per il montaggio, quindi magari disposi da dietro con tutta la navata centrale, non abbiate paura, muovetevi, spostatevi, catturiamo tutti i vari dettagli che ci possono essere architettonici della chiesa se non l'abbiamo fatto prima, facciamo clip dei parenti, di tutti i parenti che ci sono, che di base sono seduti nelle file avanti, quindi stretto, largo dei parenti, mamma, papà, testimoni, fratelli, sorelle, altre persone presenti all'interno delle panchette, se è possibile possiamo salire sulla balconata che di solito c'è nelle chiese per fare delle immagini più particolari dall'alto e quindi cercare di chiudere un po' tutto quello che è il discorso copertura in questa fase, nella primissima fase iniziale, perché qui ci sono tutte delle parti che a noi non interessano i fini del montaggio. Se ci sono delle letture, di solito bastano delle piccole coperture, però se c'è stato detto, vedete l'importanza della comunicazione, all'inizio del matrimonio, nella fase organizzativa, la sposa vuole che ci siano le letture integrali con l'audio, dobbiamo ricordarci che ci sono, quindi filmarle per intero. Poi, altre cose che possono essere utili da riprendere in chiesa, non necessarie ma utili, il momento in cui il prete dà la comunione, il recito del Padre Nostro, c'è il momento dove si danno la mano, magari gli sposi con i parenti, insomma queste possono essere dei dettagli che se non li avete non succede nulla, però diciamo che danno del contesto. A questo punto, cosa succede? Finita questa fase, quindi finita la fase un po' più tranquilla, sta per iniziare il momento clou, quindi bisogna cambiare la batteria, decidere quale lente utilizzare, perché ci sono le promesse, bisogna essere pronti per il momento più importante di tutti. Quindi facciamo un ultimo check dell'audio, ok, del nostro microfono direzionale, che possiamo sentire attraverso le cuffie. La posizione ideale per riprendere le promesse è quella dietro al prete, con una vista chiara sugli sposi e quindi anche sugli invitati e sul resto della chiesa. Il fotografo tenderà ovviamente a girare, a spostarsi, fare vari campi, stretto, largo, si abbassa, però noi questa cosa non possiamo farla, perché ci serve un integrale. Quindi, soprattutto se siamo all'inizio, sono i primi matrimoni, dobbiamo fare solo una cosa, stare fissi, fermi e larghi. Basta. Quindi una bella inquadratura larga, con un millimetraggio adeguato, perché saremo schiacciati, saremo tra il prete, gli sposi davanti, di fianco abbiamo i testimoni, magari abbiamo i candelabri, quindi dobbiamo essere con una focale larga. Facciamo una bella fissa degli sposi, col prete che gli dà il microfono, che farà questo movimento qua, delle promesse, di tutto quanto. Una bella larga. Per non prenderci assolutamente nessun rischio, solamente ovviamente se siamo i primi matrimoni, se siamo da soli, ok? Quindi non esitate a spostare il prete, se si mette davanti, quindi diteglielo sempre con gentilezza, una idea di uno schiaffo, però fate in modo che si metta in una posizione adeguata, e voi dovete avere il campo migliore possibile. Chiaramente anche qui il fotografo non si deve mettere davanti, cioè mettetevi il più vicino possibile, così lui non può mettersi davanti, e avete risolto il problema. Chiaramente se siete in due operatori, uno si può focalizzare sulle inquadrature, quelle più ampie, mentre l'altro sui primi piani, e sul dettaglio quindi degli anelli, che vengono poi scambiati ed indossati. Se siamo esperti però da soli, quello che possiamo fare cos'è? E fare il totale quando ci sono le promesse, quando poi loro sfilano dal cuscino gli anelli, che c'è sempre un attimo di indecisione, di tentennamento, possiamo fare subito una stretta, che vengono tolti gli anelli dal cuscino, vengono inseriti nel dito, e poi ci riallarghiamo subito, pronti a fare il totale, così perdiamo qualche frazione di secondo. Chiaramente non fatelo se stanno parlando, perché poi giustamente non potete tagliare, però questa tecnica, se siete veramente esperti. Chiaramente la cosa fondamentale per questa tecnica, e anche per altre tecniche, è quella di non staccare mai la ripresa, per avere un audio continuo. Se avete un acquisitore esterno, potete anche staccare, però tenete sempre la camera che gira, in maniera tale che se volete fare qualche zoom, qualche primo piano, o qualche controcampo, durante le promesse lo potete fare. Questo ovviamente dipende da quando siete confident, della situazione. Dopo le promesse, di solito c'è un bacio, quindi anche un applauso. Non c'è tempo generalmente di fare il giro, quindi superare gli sposi, mettersi dall'altra parte, fare loro che si baciano frontali, quindi cercate di fare una bella inquadratura da dietro, con loro che si baciano, se avete fortuna si mettono di profilo, tutti quanti si alzano in piedi, avete l'inquadratura definitiva. Una volta finite le promesse, ci occupiamo subito delle firme, perché ci sono le firme quelle legali, ok? Quindi se c'è un banchetto, chiediamo di posizionarcelo nella posizione che vogliamo noi, se non ce lo fanno fare, lo lasciamo ovviamente dov'è, facciamo una ripresa stretta, una larga di sposo, sposa e testimoni. State tranquilli, perché vengono fatti due firme, cada una, quindi in una la facciamo stretta, in una la facciamo larga. A questo punto il fotografo farà degli scatti di gruppo in chiesa, noi cerchiamo di fare di gruppo con mamma, papà, insomma le persone quelle più strette, noi catturiamo qualcosa, ok? Facciamo qualche immagine che ci può essere utile ai fini del montaggio, e dopodiché, se c'è tempo, ci concentriamo e facciamo qualche clip magari di loro, un bacio, un avvicinamento, qualche panoramica, insomma cerchiamo di fare qualche dettaglio direttamente con la chiesa, vuota, e soltanto gli sposi. Per far sì che la chiesa sia vuota, dovete far uscire comunque tutti, perché tutti tenderanno a stare lì, a non uscire, a fare il selfie con gli sposi, ecco facciamoli accomodare fuori, sempre con gentilezza, cosa che a me viene difficile per carità, però con gentilezza. Dopodiché, quindi chiesa vuota, c'è l'uscita degli sposi, altro momento fondamentale, ok? Cosa succede in questo caso? In questo caso noi ci facciamo una camminata, degli sposi, dall'altare fino a metà della navata, dove diciamo che ragazzi venite verso di me, li facciamo guardare, li facciamo sorridere, magari si danno un bacio, si guardano tra di loro e vengono verso di noi, facciamo magari uno stretto, quindi possiamo fare della vita in su, dopodiché li fermiamo a metà, andiamo un po' più in fondo e facciamo un bel largo di loro che arrivano verso di noi. A questo punto abbiamo fatto la prima parte dell'uscita, ora ci serve l'uscita vera e propria, quindi loro che escono fisicamente dalla chiesa. Diciamo agli sposi, ragazzi, noi adesso usciamo, quando vi diciamo il via, uscite, vi fermate subito dopo il portone e vi date un bel bacio. A questo punto noi usciamo fuori, ci rivolgiamo a tutta la folla e diciamo ragazzi, stanno uscendo gli sposi, perché se tutti saranno carichi, avranno i botti, avranno il riso, avranno i coriandoli, lanciate quando si baciano. Questo perché? Perché è più bello, anche per le foto, avere loro che si baciano e mentre si baciano, boom, lanciano tutto, invece che un po' per volta. Chiaramente anche qui, potete chiederlo, vediamo cosa succede. Chiaramente i buon temponi ci sono sempre, che appena escono, gli svuotano tutto il riso in testa e rovinano l'uscita degli sposi. Eh, ah, ma non ci possiamo fare niente di amici se li sono scelti loro. Fagli delimitare un semicerchio nel quale noi ci metteremo al centro per poter riprendere l'uscita degli sposi e cosa soprattutto importantissima è quella di chiedere di non mettersi davanti ai fotografi per fare le foto. Perché succede sempre che arriva la zia, così col telefono, che si butta davanti a tutti e rovina di fatto, questo lo voglio dire, signora, perché tanto c'è sempre, ogni mattino, signora rovina le foto. Per fare la foto lei, la signora egoista, rovina le foto e i video del matrimonio. Quindi dovete chiedere di, anzi ordinare, di stare fermi perché il fotografo e i videomaker sono pagati apposta di non mettersi davanti per fare le foto col telefonino. Lo faranno? Chi lo sa. Voi siete pronti? Speriamo lo facciano. Quindi, eh, ci mettiamo in centro, ci settiamo, mettiamo la camera a posto, settiamo l'esposizione, guardiamo che sia tutto giusto. Se vogliamo, possiamo fare, eh, aumentare gli FPS, quindi mettere magari un 100 FPS, 120 FPS per avere un ultra slow. Se siamo in due operatori, chiaramente uno sta stretto e uno sta largo, oppure uno può direttamente fare una bella dronata che ci sta, a questo punto cenno, gli sposi arrivano. Prima di far uscire gli sposi, però, dovremmo cercare, questo dovremmo averlo detto già prima al sacrestano o al prete, di non chiudere immediatamente le porte dietro gli sposi perché si tende a fare così, perché non vogliono che si sporchi di riso la chiesa e quindi loro tendono a chiudere le porte, quindi molte volte ci sono gli sposi che si baciano con dietro il sacrestano che chiude la porta della chiesa, cerchiamo di, se possibile, evitarlo, ok? Quindi, a questo punto, gli sposi si sono baciati, sono usciti dalla chiesa, c'è stato il momento del lancio, delle esplosioni, di solito può esserci ancora qualche, diciamo, qualche momento, come per esempio lo scoppio di dei palloncini, insomma, è successo anche che c'erano delle moto fuori, è successo delle moto da cross fuori che strombazzavano durante l'uscita, però, diciamo che bene o male, il momento clou è finito della cerimonia, quindi cosa succede? Saluti, baci, abbracci, stretti di mano, foto di gruppo da parte del fotografo dove noi possiamo farci qualche immagine, qualche dettaglio, qualche totale e a questo punto cosa succede? Succede che gli sposi rimangono con noi, tutti gli invitati se ne vanno e rimaniamo con sposo, sposa, fotografo, autista e quindi a questo punto si passa alle foto in esterna o in location. Assicuriamoci di avere il numero dell'autista se già non abbiamo avuto prima perché gli sposi non avranno dietro il telefono e quindi dobbiamo incontrarci poi da qualche parte se ci perdiamo al casello o per la strada non ci troviamo più perché gli sposi del telefono non ce l'avranno dietro quindi il numero dell'autista o chi guida la macchina in maniera tale da poterci trovare in qualsiasi momento mentre andiamo in location per fare i nostri scatti ragazzi il video finisce qui vi ricordo che questa lezione è un estratto di un videocorso molto più completo che abbiamo fatto quindi nel link trovate i riferimenti per andarlo ad acquistare sono sempre molto interessanti i nostri corsi che vi aiutano proprio nel mondo lavorativo e in maniera pratica a poter approfondire la professione in ogni caso io vi ringrazio vi invito ancora ad iscrivervi al canale attivare la campanellina perché per noi è molto utile ciao ragazzi grazie a tutti